salve a tutti e grazie per la visione qui la seconda parte del video tutorial una breve dimostrazione di come dipingere gli alberi con un pennello tondo numero 8 io uso i pennelli sintetici prendiamo il colore e con delicatezza possiamo premere sulla superficie creare l'effetto delle foglie in questo caso foglie con colori autunnali così come anche la vegetazione in lontananza miscelando il blu oltremare con il giallo di napoli chiaro e una punta di verde otteniamo un blu chiaro tendente al grigio così da dare profondità al paesaggio per le ombreggiature possiamo usare lo stesso colore con l'aggiunta di qualche pennellata di arancio che poi è il colore rosso a marte miscelato al giallo di napoli chiaro e con una punta di verde terra diventa una tonalità autunnale guardate da una certa distanza il vostro dipinto così da avere una visione più omogenea del paesaggio ma questo forse lo sapete già fatemi sapere con un commento sotto al video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mi auguro che il video sia stato utile e di vostro gradimento ci vediamo al prossimo tutorial a presto ciao 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 ciao